Eccoci, buongiorno, io sono mezz'ala sinistra, Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema. Buongiorno a tutti, Francesco Palazzi, On Production. Eccoci qua, Umberto Riccioni-Carteni, On Production. Paolo Geremei, regista. Erber Simone Paragnani, regista, sceneggiatore insieme a Umberto Carteni e produttore insieme a On. Allora, l'anno scorso eravamo proprio di questi giorni, tra l'altro era presente ancora Gianluca Vialli, in questo momento ci piange veramente il cuore, sempre di Sampdoria si parla, in parte, di questo film, vorrei chiedere, prima domanda, poi vorrei che i ragazzi o i giornalisti presenti facessero delle domande, perché ripeto, le mie sono veramente di una banità sconcertante, quindi eviterei. Come nasce questo progetto e chi risponde? Allora, mi sentite? Eccoci qua. Il progetto è una cosa strana, parlando di calcio, gli unici due inesperti di calcio, che siamo io e Francesco Palazzi, che non tifiamo nessuna squadra, non capiamo nulla di calcio, tifiamo così per l'essere umano, e il progetto è nato da noi, non tanto interessati dal punto di vista calcistico, che tutti quanti noi conosciamo, insomma la vicenda di Marcello Lippi, ma in quanto così ci siamo molto appassionati all'essere umano, ci interessava raccontare il personaggio Marcello Lippi, non solo dal punto di vista calcistico, e così con Francesco forse puoi raccontare il primo viaggio a Viareggio per andare a corteggiare Marcello per poter realizzare queste riprese. No, no, è stato un viaggio, insomma una scelta supportata dalla volontà anche di Simone, che è un appassionato invece di calcio, e quindi siamo partiti per la volta di Viareggio per proporre questo progetto a Marcello, dopo aver parlato ovviamente con Palo, che ancora ringraziamo per la fiducia e disponibilità a sposare il progetto, e quindi siamo andati a Viareggio e l'abbiamo raccontato, abbiamo spiegato a Marcello che ha capito e ha subito detto di andare avanti. Secondo me gli abbiamo fatto pena, ha detto aiutiamo questi due perché... Secondo tutti gli abbiamo fatto... Secondo me gli è piaciuto molto, è stato super disponibile, ci ha raccontato tante belle cose, Simone che come appassionato di calcio li ha vissuti in maniera diretta perché si ricordava poi ogni aneddoto, ogni cosa accaduta, quindi è stato molto interessante, divertente, da lì è partito tutto questo progetto che ci ha portato oggi qui. Tu che posso aggiungere? No. Luce rossa, vai. Vai. È un quartetto ideale nel senso che voi non appassionate di calcio, noi tifosi della Roma, io e Simone quindi eravamo diciamo ideali proprio, però questo ci ha permesso una certa obiettività nel racconto e anche una certa spontaneità perché veramente raccontare chi ha vinto la Coppa del Mondo, raccontare a Marcello Lippi non è facilissimo, cioè può non essere facilissimo perché si rischia di essere banali, di essere scontati, di dire o far dire cose già dette, quindi il lavoro che ho fatto e penso fatto in parte anche con Simone è stato proprio quello di come di fare un passo indietro, di levarci tutto ciò che noi già sapevamo e di fare il viaggio con Marcello e con i suoi collaboratori insieme per scoprire il lato umano e anche ovviamente il lato sportivo. Allora intanto do sfoggio, prima a loro già l'ho data ma insomma voglio partecipare anch'io, Battara, Arnuzzo, Rossinelli, Corni, Garbarini, Lippi, questa era la prima parte della formazione della Sampdoria di quel periodo lì perché stiamo parlando di Adesso vinco io, documentario su Marcello Lippi e su tutta la vita di Marcello Lippi è anche calcistica, quindi si parla degli inizi, della stella rossa eccetera eccetera eccetera. Ci sono domande? Eccoli, pronti? Senza microfono? Sì, eccolo, arriva. Aspetta, aspetta, dai, eccolo, dai, ti prego. Fantastico. Non avevo capito. Buongiorno. Allora io ho tre cose da chiedervi, la prima è questa, mi ha molto, come dire, nemmeno sorpreso però mi ha colpito come Lippi sembri, nonostante l'età più giovane dei calciatori che sono tra le torchinezza del film, quindi una cosa su questa. L'altra cosa è, a partire dal titolo, la vittoria come dimensione, come finalizzazione umana anche, in un periodo che spesso, anche per ragioni di politicamente corretto, anziché vincitori, elogi perdenti, quindi questo, cioè Lippi è scomodo anche per questo, per chi ha vinto. E la terza cosa invece, del figlio non si dice come poi sia stato assolto da quell'accusa e contemporaneamente non si dice come Moggi invece sia risultato colpevole. Quindi dal punto di vista giudiziario, cioè del processo giudiziario, come avete affrontato questa cosa qua, queste tre cose? Vabbè, comincio io, io partirei da quest'ultima cosa, diciamo che, allora questo è un documentario chiaramente su una persona, su un uomo, noi siamo andati molto sull'emozione. Per quanto riguarda quelle vicende che peraltro tutti conoscono, non le potevamo indagare noi, avremmo in qualche modo, avrebbero vampirizzato il progetto. A noi ci interessava ricordare che emotivamente Davide ha avuto una svolta molto importante, positiva, dal comportamento di Marcello e che in qualche modo, quando lui ricorda, mi ha salvato la vita. Penso che oltre quello non ci sia altro da dire. Per quanto riguarda Luciano Moggi, penso che non ci sia bisogno di dire l'obbio, nel senso che lui ha avuto un giudizio definitivo della giustizia sportiva, quella è storia, però appunto Luciano Moggi è una parte importante della vita di Marcello e come tale ha avuto una testimonianza nel nostro film. Però in qualche modo ci interessava più i rapporti umani, i rapporti dietro, no? Si è visto il film, tutta la parte diciamo del rincontro di quella grande Juve, in qualche modo, qui c'è anche lui. Tutto quello che avveniva avveniva dietro, dietro erano vicende che scorrevano dietro di lui, che facevano parte della sua storia, ma intanto il nostro focus era su Marcello. C'era Paolo Del Brocco che voleva intervenire? Sì, no, io volevo dire una cosa importante in termini dei documentari, diciamo, chiamiamoli sportivi sullo sport, perché chiaramente dopo aver fatto, naturalmente era bella stagione lo scorso anno, eravamo qui, mi sembra, ieri, e anche un'altra cosa che si chiama il Gode Turone Rabbono, che è stato rifiutato dal Festival di Torino, scherzo naturalmente. Perché non c'ero ancora io. Sì, naturalmente. No, però penso che sia molto interessante produrre questo tipo di prodotto che non è un documentario sportivo, giornalistico, televisivo, no? È sempre indagare delle storie epiche o dei fatti epici, perché intanto ci sono certe figure che sono stimolo forte anche per i giovani. Qui vediamo una figura, ormai un'icona, possiamo dirlo, del nostro sport, che però tante cose non le sappiamo noi, no? Il dietro le quinte, la vita personale, i sentimenti, come sono cresciuti, quando erano bambini cosa vorranno fare, e anche dei fatti sportivi, nel caso di Marcello, che non tutti conoscono in Italia, no? Il grande successo, ad esempio, in Cina. Ecco, quello che ci interessa nei documentari di questo tipo è andare ad esplorare degli aspetti che non sono solo le partite, i gol, perché altrimenti fa parte di un mondo, di un tipo di prodotto. No, lo dico perché chiaramente dopo avermi fatti i tre mi stanno arrivando proposte di chiunque abbia giocato a pallone nel corso della vita vuole fare un documentario, quindi diventa complicato. Invece questa è la forza dei documentari che hanno un taglio comunque cinematografico, di cinematografico, perché questo film uscirà in sala a febbraio e poi ancora non abbiamo definito il giorno, perché sono anche esempi di vita non solo sportiva, ma di vita proprio personale. Domande? Posso? Ah no. Esatto. Sulla adesso vinco io, che è molto più che il titolo, è proprio l'anima del film, io sfaterei anche il mito che va bene anche arrivare secondi, perché lo sport è competizione e quindi se uno gareggia soprattutto in certi sport vuole arrivare primo, quindi io con grande serenità ti dico che è giusto raccontare il documentario, è giusto raccontare come si riesce a vincere, che non è la formula magica, perché poi non esistono formule magiche, però se credo che, io lo credo, sono tra i pochi o forse i tanti romantici che pensano che lo sport sia una metafora della vita, ho fatto tanti documentari sportivi e ne farò anche altri, perché credo appunto che raccontando lo sport, raccontando soprattutto l'approccio allo sport, capisci tante cose della vita, ma ripeto lo sport è competizione, per cui se c'è tuttora un legame forte, credo, tra Marcello e i tantissimi, e le Tolkien e i tantissimi giocatori che abbiamo intervistato, è sì perché sono stati bene insieme, sì perché hanno condiviso momenti importanti, ma anche sì perché hanno vinto e la vittoria non è solo la Coppa, è anche la soddisfazione, anche il raggiungimento di un traguardo che ti ripeto, è personale, è sportivo, ma è anche molto interiore. Perché, vabbè allora, diciamo, questo segreto industriale abbiamo usato l'intelligenza artificiale, non è andata così. No, Marcello, mi riallaccio un po', non ho una risposta, però provo a trovarla con te, io penso che mi sono sempre chiesto, ci siamo sempre chiesti qual è il superpotere di questa persona che è finita nei Guinness, perché è stato l'allenatore più vincente della storia del calcio, capace di vincere anche in un altro continente, peraltro in un paese dove il calcio non esisteva, cioè ha vinto la Champions League Asiatica ed è l'equivalente di vincere la Champions League con una squadra albanese. Quindi la sua impresa, diciamo, poi noi ce lo dimentichiamo perché per noi è il Lippi del 2006, è il Lippi della grande Juve, eccetera, eccetera, ma ha fatto qualcosa di enorme. Io credo che il grande carisma di Marcello sia il suo superpotere. Lui era in grado di, da allenatore, da un lato, come diceva Paolo prima, essendo stato calciatore, di rapportarsi con i calciatori come uno di loro, ma di infondergli una tale fiducia in se stessi, capace di rendere grandi campioni, starapagati, viziati, così, un unico corpo e farlo arrivare in paese incredibili, come l'Italia del 2006, perché poi nessuno se lo ricorda, perché siamo un paese un po' strano a noi, no? Cioè nel senso che nel 2006 c'erano i forconi che chiedevano il ritiro dell'Italia, la cacciata del blocco Juve dalla nazionale e quell'uomo è riuscito non solo a mantenere la barra dritta, ma a portare la barca fino alla vittoria del campionato mondiale. Visto poi come il calcio italiano si è comportato a livello di qualificazioni successivamente, non è un'impresa da poco, direi. Domande? Prego. Buongiorno, Davide Gravina, Cinedams. Rilacciandomi all'avventura di Mr. Lippi in Cina, volevo chiedere se l'idea di cominciare il documentario raccontando la sua avventura in Cina fosse nata in corso d'opera oppure se avevate già avuto in mente di iniziare così? Grazie. Vai tu. Tanto è la verità, no? Non avevamo in mente di cominciare con la Cina, siamo partiti da un'idea cronologica che poi abbiamo smontato e rimontato e ci è sembrato l'inizio più convincente, ma su carta non era così. Sai anche il bello del documentario, nel senso uno cerca, c'è una struttura, poi dopo intorno alla struttura ci lavori al montaggio, in realtà ci lavori anche prima perché speri da una parte che accada qualcosa nell'intervista o proprio durante le riprese che ti sconvolga un po', però no, quindi non era un'idea preconcetta, diciamo. Se posso aggiungere una cosa su questo è che come ha detto poc'anzi Paolo del Brocco, comunque siamo partiti per non fare proprio sì un documentario ma è comunque un film, quindi da un punto di vista cinematografico è chiaro che non dobbiamo stare qui a fare le strutture eccetera così, ma la Cina è il culmine di una carriera che già senza la Cina sarebbe stata perfetta. È stata come la dimostrazione la Cina del suo essere unico perché poi al di là del tempo di Ranno che ci ha fatto tagliare tante cose ma è stato molto interessante vedere calciatori cinesi con cui c'erano almeno dieci gradi di separazione culturale essere investiti dal carisma di quest'uomo perché ripeto, chiaramente per noi siamo molto lontani da quella cultura ma è stata un'impresa probabilmente più grande di alcune imprese più celebrate qui in Europa quella. E quindi da lì, dalla fine della carriera di quest'uomo siamo ripartiti a ripercorrere come era iniziato. Se posso rianciarmi a una cosa sul titolo, la carriera di Marcello Lippi come calciatore è straordinaria ma è un calciatore di Gubertiniano perché è la bandiera di una squadra come la Sampdoria che non era la Sampdoria ancora di Viali e di Mancini, una squadra che andava dalla B e la A eccetera. E quell'uomo però era un serial winner in nuce e poi dopo che non ha vinto nulla durante la sua carriera da calciatore ha detto adesso vinco io e lo ha dimostrato, ma non è da tutti. Domande? Allora arrivo io. No, ok. No, pensavo che le giovani generazioni fossero un pochino più invogliate a chiedere qualcosa che non conoscono se non dai racconti dei propri padri. Allora no, lo dico io. Tra l'altro questa voglia di vincere, questa determinazione viene anche evidenziata all'interno del film quando lui, radunati i 23 calciatori che porterà al Mondiale, gli dice noi andiamo lì per vincere il Mondiale. Tant'è vero che Ferrara e non mi ricordo chi ha, ti dice questo è matto, Peruzzi. Peruzzi era, Peruzzi. Un po' meno. Peruzzi, mister, un po' meno. Spinge il rosso. Peruzzi, si dice. Ecco, Peruzzi gli ha detto mister, un po' meno, e invece Marcello gli ha detto se non ti sta bene quella è la porta, puoi andare. Noi dobbiamo vincere il Mondiale. Ripeto, ricordiamoci le forche di calciopoli, no? Sì, tra l'altro poi c'è tutto l'aspetto, secondo me, molto interessante, anche bello dal punto di vista visivo e sentimentale del figlio che si muove abbastanza spesso ricordando quelle che sono state, non dico, forse è una parola forte, ma insomma le scelte del padre nei confronti della sua vita. Questo è un aspetto che nel film viene evidenziato. Questo sarebbe un altro film. Sarebbe veramente un altro film perché è un tema talmente potente che meriterebbe comunque un approfondimento. E rientra tra le cose che dicevo prima. Anche questa qua non era un aspetto previsto, che non conoscevamo questa parte così importante, a tratti comunque anche dolorosa e diciamo intensa del rapporto padre-figlio. Per noi è stata una scoperta che ci ha anche un po' indirizzato quindi la struttura del documentario e permettendo ancora di più di raccontare l'uomo e quello che fa le scelte di un padre, che non sono le scelte di un allenatore, sono le scelte di una persona che è chiamata a decidere per te, anche in qualche modo contro la propria volontà, ma sapendo che sta facendo il tuo bene. Ecco, una cosa penso che sia difficilissima per un genitore, però è un aspetto appunto che è nato conoscendo Davide e che ci ha sorpreso e l'abbiamo trovato molto molto bello e utile penso anche per noi, per il racconto, ma credo anche per lo spettatore, al di là poi di come venga percepito, ha fatto bene, ha fatto male. Credo che comunque sia un aspetto utile per il pubblico. Domande? Eccone, ce n'è una. No, no, eccolo, ce l'hai alle spalle. Scommetto che sei di CineCittà News. Sì. Mi hai sentito prima. Ok. Carlo D'Acquisto. È veggente. Oddio, mi sono preoccupato. Allora, Paolo Maldini, uno dei più forti calciatori della storia, ha detto di essere il più grande perdente di sempre, perché ha perso tantissime finali, e anche Marcello Lippi, l'anno all'Inter, ma alle finali di Champions Perse, ha passato dei momenti di sconfitta. Vorrei chiedervi come avete affrontato quei momenti di un serial winner che però ha perso anche tantissimo. Ma intanto ci sono... Vabbè, io sono romanista, quindi di sconfitte io, diciamo, sono... E campo, più che altro c'è campo. Parli con due professionisti. Noi siamo cintura nera di sconfitti. Esatto. Quindi... Sconfitta è rigori anche. Mi fa specie che questa domanda, anche se ha una forma di verità, no? Nel senso che effettivamente lui nel 2004 perde la sua... Cioè nel 2002-2003, diciamo, perde la sua terza finale di Champions League. E quello è, da un punto di vista cinematografico, è un momento di crisi, in cui lui addirittura ha un forte ripensamento su se stesso. Ma lui li rilancia, perché le sue sconfitte Marcello le vive malissimo. E tende... È stato difficile parlare con lui delle sconfitte. Perché le rimuove... Ma non le rimuove da un punto di vista così facile, perché non è bello parlarne. Io credo che rimuovere le sconfitte sia un modo per... mantenersi sempre pronti a vincere, in qualche modo, no? Cioè lui si concentra sulla vittoria. È chiaro, può avvenire anche la sconfitta. Ma in qualche modo, siccome è una percezione di un'idea mentale, lui è il maestro Miyagi, diciamo, del calcio. Cioè, metti la cera, togli la cera, e poi alla fine, diciamo, i calciatori arrivano a Dama e capiscono il motivo di quella... Anche da un punto di vista familiare. Nel senso, anche lo stesso Davide, che non capiva tutta una serie di cose che pensava essere contro di lui, alla fine capisce che tutte le scelte di Marcello erano a favore della sua vita e della sua felicità. È quel momento emotivo che... Anche molto frustranti, no? Perché il passaggio dalla C2 alla C1, la possibilità di fare ancora il calciatore, che era la passione... È la passione di tutti quanti noi, insomma. Posso aggiungere che, sì, parlare di sconfitte è molto relativo, nel senso, sì, comunque ci deve arrivare tre volte in finale di Champions, non ci è arrivato nessuno, quindi comunque sono sconfitte... No, è difficilissimo parlare di sconfitte. L'Inter è andata sicuramente male, per quanto sì, sono arrivati i quarti, però ovviamente non è andata come doveva andare. Quindi rimuove le sconfitte, è vero, si incazza proprio tranquillamente, te lo dico. Però rimuove anche le vittorie, è questa forse una delle caratteristiche. Lui è giulista già pensando al dopo, sta già avanti, sta già alla stagione seguente. C'è un servizio bellissimo del TG1, durante il quale il giornalista lo interroga per festeggiare, insomma, la Coppa Intercontinentale, che conosce l'importanza, e Marcello non importa niente dell'intercontinentale, sta pensando a Juventus-Bologna, e il giornalista schierando, che diceva che Bologna come gioca la miglia sia la formazione. E Marcello si fa tutta la formazione di Bologna, un giorno dopo il viaggio a Tokyo in aereo. Quindi si dimentica le vittorie, è vero, e si dimentica però anche le sconfitte. Questa è un'altra delle sue caratteristiche, sì. Allora, noi abbiamo tre minuti, mi sa che me li rubo io per l'ultima domanda. Prego, dottor De Brocco. Io intanto ringrazio il Torino Film Festival per aver invitato, anche perché credo che sia veramente un ottimo festival per lanciare questo tipo di film, perché dà proprio il là ad una possibilità di visibilità importante su un pubblico molto attento cinematograficamente, come sappiamo, che è quel Torino Film Festival. E quindi ringrazio, perché dopo, quando abbiamo andato nel documentario a Steve, subito non c'è stato nemmeno bisogno. Ho detto, mal che vada, chiamo il presidente Enzo Chico, grande juventino, e ci prendono per forza. Invece non c'è stato bisogno, assolutamente. E poi dopo però vorrei fare ancora una domanda al presidente del museo, dicendo che sensazione fa un documentario fatto sull'Ippi, comunque dove ha fatto la storia della Juventus, fatto essenzialmente da romanisti. Cioè la risposta io la doppio, guardi se vuole, perché siamo sportivi, noi giallorossi, siamo sportivi, di grande sportività. C'è il microfono per favore? No, grazie prima di tutto per aver raccontato una storia di uno sportivo grandioso. Naturalmente per esprimere un giudizio invece sul lavoro dei romanisti, aspetto di vederlo oggi pomeriggio, e lì potrò essere naturalmente. Poi sapete, le diatribe calcistiche sono un po' il succo e il divertimento del grande mondo del calcio. Ci stanno assolutamente tutte. Perciò voi credo che vi siate da professionisti quali siete spogliati da quella forma un po' di vittimismo che avete nei confronti della Juventus e siate stati assolutamente obiettivi nel raccontare la storia di un grande personaggio. Quello senz'altro. Grazie, grazie. Grazie a tutti.